Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends Quest'oggi andremo a vedere insieme, in realtà andrete perché i video sono pre-registrati, cioè i match sono pre-registrati in realtà Visto che il personaggio l'ho trovato mercoledì scorso, quindi al day one Solo che il video sì, ok, l'avete visto ieri, ma perché ci avevo già tutto programmato Quindi sì, anche i match che vedrete sono stati pre-registrati durante la settimana Sono stati tutti registrati oltretutto in top 3000, anche se vedrete ad esempio nemici, avversari in realtà con 10.000 RP per dirvi Era perché in realtà quando avevo registrato i match ero in top 3000 e la top 3000 era sui 10.000 RP Infatti vi faccio anche vedere, attualmente sono come potete vedere 3.779 al mondo, ok, incredibile E quindi sì, mi sto mantenendo su quelle posizioni Non gioco praticamente da 24 ore per farvi capire, eh, e sono 3.779 Per il resto parliamo due secondini del PG perché ragazzi è fortissimo, ma forte, forte, forte I limiti dell'allucinante Poi ne parleremo anche in meta tier list Vi farò capire un attimino, secondo me, se è meglio, se è peggio di Vegito Blu E lo posizioneremo anche all'interno della nostra classifica Per il resto, quali sono i punti di forza di questo personaggio? Sicuramente partiamo dalla base I due team gioca prevalentemente in, o meglio, può giocare prevalentemente in due meta team E cioè Vegeta Family e Saiyan Uno di questi due team completi Veramente tanta tanta roba La sua resa ovviamente è da Striker Lo si intravede già dalle statistiche Lo si intravede anche dalle carte che tiene Ed andiamo a vedere poi successivamente cos'è che riesce a fare il personaggio Attiva la trasformazione ovviamente Immagine Vegeta e Restore del 30% di HP Dopo 15 secondi, ovviamente dopo l'attivazione dell'Ultimate La Z-Ability è per i Saiyan ed è ottima onestamente 22% Strike Attack per i Saiyan GG va benissimo A tre stelle ottiene anche la difesa ed ottiene anche il tag Vegeta Family Quando entra sul campo di battaglia comunque ha un 50% di danno inflitto Una riduzione del danno del 30% per 20 secondi che non è male assolutamente Anzi è ottima Può tankare Allora, dipende in realtà A buscare le busca Però ci sono fasi di battaglia in cui può tankare Lo vedrete anche durante il gameplay sicuramente Da non sottovalutare assolutamente queste blast che riducono ad ogni colpo il kinemico di 30% Veramente ottimo Verde che cambia da pre-trasformato a post-praticamente trasformazione Cioè da pre-trasformato avete la verde che va dritta sul nemico ed è combabile Non ha blast armor quindi dovete stare attenti E distruggete anche tutte le carte del nemico A parte vari buff eccetera 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 Mentre quando lo trasformate in Magin Vegeta Questa verde ragazzi diventa ancora più pazzesca Perché praticamente la stessa identica verde che c'ha Gohan Gohan Yellow È veramente ottima Ma in più vi ridà 30 ki Vi dà buff Vi dà addirittura una carta Vi pesca una carta Tanta tanta roba La special qui è pazzesca ragazzi Soprattutto nel momento in cui voi attivate la special post-main ability Cioè Allora, già la special di per sé è fortissima Ed ha anche la blast armor Se voi attivate questa special Post-attivazione di main ability Guardate qui che roba Avete 100% di danno inflitto Sulla successiva special move Ragazzi, assurda Veramente potete one-shotare un nemico Ma potete anche fare dei danni allucinanti Su un nemico di colore verde per dirvi Per il resto Buff su buff Sempre riduzioni del danno Raga, personaggio Veramente, veramente Pazzesco Vi ripeto Poi ne andremo a parlare bene All'interno della meta tier Vi farò capire un attimino dove lo vado a piazzare Per il resto A questo punto Godetevi questi match Insieme a me Ah, e altra cosa importante Mi raccomando Ricordate di followarmi Sul mio canale per live Trovate il link in descrizione Perché Le pool non sono finite Infatti punto a farmi Un'altra multi Sulla sua step up Per poi aprirmi anche il ticket Sparking garantita Vi lascio ai match Ok Vediamo un secondino che succede Va Vabbè Sì Come no Come no Ok Maia la miseria Dio mio Santissimo Benedetto Dio mio Amico mio Modishotto Te lo dico Modishotto Male proprio Te ne esci a pezzi Ma hai fatto Arrabbiare Blazzi Hai fatto proprio Arrabbiamo Naya Ok Fermi 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 Subito Subito Maggeta voglio Subito Vai Vai Ok 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 Let's go Perché non entrano Perché non entrano Sti maledetti Switch Sti maledetti Manish In realtà Vai Allora Dobbiamo solo Shotare sto Trunks Sarà dura Però ci viene dato Anche un bel Vantaggio Ok Let's go Let's Go Machine Vegeta Ok Va bene Oggi failo Tutto Oggi failo Tap Qualsiasi cosa Incredibile Va beh Va beh Ok E intanto In teoria Noi Mi sa che stiamo avendo Qualche leggero buff Ora Se facessi Dove riesco ad evitare Ma già la miseria Avevo sperato Vabbè Fa nulla Fa nulla Failo tutto Oggi Dio santo Però almeno Vi faccio vedere Un po' di tanking Ottimo Let's go Vai 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 Perché quel cell C'ha la doppia vita Quel cell C'ha la doppia vita Quindi Non va arrasciato Assolutamente La prima vita Non va arrasciato A quello Bene Vediamo un pochino Il danno Se riesce a sostenerlo Ok Buono Per il momento Buono Anche se è baby Ne ho bisogno Almeno lui Quando crepa Ci da qualcosina Eh Te pareva Vabbè Ok Oh Meno male Si è fatta A chi Ok Va bene E fatelo un altro saltino Maledetto Madonna Non ci credo mai Non ci crederò mai Mai nella vita Ci voglio credere Mai Mannaggia Vabbè 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 No Questo no Ok Quello no però Fermi Concentrazione Yes Crepa 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 Ok Ottimo Così Ottimo Così Continuiamo Non ci credo Non ci credo Non ci crederò Mai Vabbè 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 Freghiamocene È andato con vegeta C'è doppio blu Va bene Finito Sposto Grazie Mi riprende un attimino Di danno Va bene Eh va bene Va bene Va bene Te pareva Vediamo Vabbè Mannaggia Mannaggia Vabbè Ottimo Eh raga Lo lancio Il rising rush Devo lanciarlo Perché Altrimenti Questo mi leva Le sfere Se lo shotto Quindi me lo gioco E va bene Va bene Va bene così Magari Ok Ci credo Comunque mi ha fatto arrabbiare La roba di quel trance Poco fa Ve lo dico Sono un po' triggerato Un po' troppo Eh Vediamo Te pareva Te pareva Quella strike Oii State fermo qua Dai Mettiamo subito Trunks Fermati Fermati Devo subito Trasformare Maggetta Eccolo qua Perfetto Ora C'ha il tackle facile Dai c'ha il tackle facile Questo Eccolo qua Avevo detto Che c'era il tackle facile Ok Lo dobbiamo solo shottare Adesso eh Mi raccomando Lo dobbiamo solo shottare Ok E uno è andato Ma dobbiamo fare attenzione A sto Maggetta Dai Ok Una giacchidime Iki 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 Vai 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 Tieni 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 Bravo Ma Te schiatto Te schiatto Te schiatto Ok No lagga Perché laggi Perché Perché devi laggare Ok Lo trasformo subito Ragazzi Ok 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 Vai Perfetto Ottimo Sto 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 Ok 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 Uh Buonissimo Allora, forse con Maggetta potevo prendere un po' più danno E poi trasformarlo In modo che recuperavamo praticamente quel 30% di HP Però... Ah, è vero È vero Ok No, mi serve Mi serve quel... Il Vegeta blu-verde Mi serve Vediamo prima di tutto questo quanto tiene Ok In realtà va beh Voleva andare di special Vediamo se l'abbiamo beccato lo stesso Speriamo di sì No, infatti di special l'avremmo beccato, avete visto Voleva andare Cioè, la mia mente diceva special Però poi ho fatto così e mi è andato sul blast Ottimo Saremmo salvati sto Vegeta Vabbè, fa nulla Ok Oddio mio Vabbè, vabbè, vabbè Teniamo, 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 teniamo Teniamo Teniamo, teniamo sempre Teniamo sempre Ok Ok Ora lo dobbiamo solo indurre nell'errore E poi lo shottiamo a questo qui Sempre che riusciamo a mantenere Vediamo un attimo Tieni, vero? Ok, tieni, tieni Ottimo Così Allora, solo due ne facciamo Anzi, forse abbiamo ancora tempo Vai, proviamo Tre E quattro Ottimo A posto Maggetta è andato Ora Qui Vai, vabbè Acceleriamo Ottimo Ok Vediamo se se la fa fa questo Sì L'ha fatta fa Oddio, in realtà non è detto Sì Vi dicono che qualcuno è appena esploso Bello Molto bello sto machine vegeta ragazzi Molto bello Molto bello